Buongiorno da BTV News. Oggi il 9 maggio è San Pacomio Abate ed è la festa dell'Europa. I capi di Stato e di Governo europei riuniti nel vertice di Milano del 1985 decisero di istituire per il 9 maggio la Giornata dell'Europa che si sarebbe festeggiata ogni anno per ricordare la dichiarazione pronunciata nel 1950 dal ministro degli esteri francese Robert Schuman. La sua dichiarazione poneva le basi della rinascita della pace e dello sviluppo in Europa attraverso la costituzione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il nuovo clima di cooperazione rappresentava l'inizio di un'era in cui ogni progetto legato alla guerra in Europa doveva diventare non solo impensabile ma materialmente impossibile. Grazie a tutti.